No, no, ma che cos'è questa pantomima? Non voglio sentire storia, ancora questa paura dell'interrogazione, no, no, assolutamente. Io voglio sentire proprio uno di voi, quindi per favore, non voglio storia, mi potete portare per favore un'asta, un microfono, grazie. Allora, vediamo un po' che io interrogo. Uno, così. Che è sta storia? Che sei? Allora, mi hanno fatto, mi hanno giocato un piccolo scherzo. Allora, non mi sarei mai aspettato che a portare il microfono fosse un grande artista come Fausto Mesolella. La edice da Sanremo. Poi mi dici chi è che ha organizzato questa storia. Sempre lui. Sempre lui. Chi? Lui. Ah, quello che organizza questi scherzi così. L'hai portato a essere un microfonista? Che avete deciso di fare? Allora, facciamo una bella cosa. Noi già abbiamo avuto modo... Allora, Fausto Mesolella, mente, grande artista, mente musicale, mente del gruppo Avion Travel, il chitarrista, musicista, che ha scritto tutti i brani per l'Avion Travel, musicista a Sanremo, con la canzone Tre Colori, e adesso stanno facendo i tecnici qui, stanno aggiustando, io vi racconto tu e beh... No, visto che abbiamo avuto anche modo allora di lavorare qualche volta, di incontrarci, siamo a Napoli. E ciao Frenchi, facciamo ciao Francesco. Eh? No, 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 no. Facciamo una cosa, un qualcosa di... Proviamo un qualcosa di napoletano. Allora, facciamo una cosa, 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 un qualcosa di napoletano. Sì, stavo Sì, stavo Sì, stavo Sì, stavo Sì, stavo La voce guanda tutta tui Scurruzze in giù Parlavamo con voi La voce guanda tutta tui Si stavuči, kakandinda nu ta Da še tu špuš, nun da vi pao Rila ka senza no mazaraná Rila ka ro, a kisarra sigur Rila ka si, kakandinda sta vie Rila ka si, kakandinda sta vie Rila ka si, kakandinda sta vie Grazie Pausto Pesonella Grazie 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 Grande, grande Pausto Io... Grazie 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 Grazie